Ragazzuoli, ciao a tutti, avete presente quando quelli bravi dicono questo video non lo volevo fare? Ecco, io sono esattamente in quella situazione lì, ecco, solo che effettivamente per dovere di cronaca, dato che è probabilmente la questione più chiacchierata al momento, all'interno del mondo Juventus, mi sembra ben più che doveroso, ad onor del vero, soffermarmi anche su questa cosa, su questa notizia e la voglio mettere tra virgolette, dato che insomma non è che sia proprio delle più eccitanti in questo periodo lanciata ieri sera da Gianluca Di Marzio, riguardo banalmente, come avrete anche intuito dal titolo e dalla copertina, il futuro di Massimiliano Allegri, perché nella serata di ieri Gianluca Di Marzio se ne è uscito con una decisione presa da parte della Juventus per il futuro, se continuare o meno con l'allenatore e la risposta pare essere di sì, per quanto evidentemente riportano le fonti di Di Marzio, sia per ragioni economiche, dato che negli ultimi giorni si è parlato di un esonero di Allegri che costerebbe alla Juventus 43 milioni lordi e tecniche, dove lì onestamente io nonostante tutto una spiegazione non me la riesco a dare, se per le ragioni economiche posso dire beh immagino che comunque nonostante tutto sia un peso mica da ridere 43 milioni nel momento in cui sei già che non troverei un accordo per una buon'uscita o cose di questo genere, le ragioni tecniche no, cioè nel senso parliamoci chiaro e dico la verità, due cose mi lasciano un pochino di spiraglio, la prima con tutto il rispetto che provo nei confronti di Di Marzio che è tanto, indubbiamente vedendo che è un professionista neanche di poco conto e che nell'ultimo periodo vuoi o non vuoi sulla Juventus non è che sia stato particolarmente impeccabile, proprio precisissimo e si andava a verificare poi tutto quello che lui aveva anticipato settimane o mesi prima, quindi questa è un ancora di salvezza a cui mi tengo parecchio stretto, se posso essere sincero senza mentirvi, è l'altra che effettivamente come anche riportato proprio dallo stesso Romeone ieri che lato Juventus sempre con tutto il rispetto lo ritengo un pochino più affidabile di Di Marzio e che ormai il rapporto tra Calvo e Massimiliano Allegri è quasi ai limiti dell'insostenibile, poi è altrettanto vero che pare la Juventus abbia deciso di confermare Allegri per queste ragioni e in un qualche modo vuoi o non vuoi il rapporto con Calvo si deve in un qualche modo ricostruire, però insomma ragazzi adesso con tutto il bene del mondo io posso capire tutte le dinamiche, tutte le questioni, tutte le valutazioni per l'amor di Dio, però io veramente nonostante tutto anche proprio sforzandomi ad onor del vero continuo a non vedere i presupposti per continuare con Massimiliano Allegri e a maggior ragione in un momento dove necessariamente dovrei ricostruire mi sembra veramente quantomeno un peccato enorme dire vabbè a me tocca continuare con l'allenatore perché ha un contratto di altri due anni e prende troppo, non ci possiamo permettere di pagare un altro allenatore che non sia lui, lo vedo come un limite, lo vedo come un riconoscere le porcate del passato perché evidentemente questo è nel momento in cui non puoi cambiare progetto perché è sbagliato nel fare un contratto di un certo tipo ad un allenatore che non ha rispettato le minime aspettative evidentemente e cavoli e cavoli se bene o male in questa situazione no non particolarmente felice avevi la possibilità di riflettere e ripartire con programmazione con competenza mettendo tutte le persone giuste al posto giusto valorizzando cercando di valorizzare il più possibile una rosa che vuoi o non vuoi nonostante tutto del potenziale molto inespresso ne ha affidando magari questa rosa ad un prospetto in grado di saper esaltare al suo meglio una linea verde che la Juventus ha e neanche di livello così tanto basso mi sento di dire continuare con Allegri nel senso io dico la verità non lo capisco e io non sono una di quelle persone che nei confronti di Allegri parla per partito preso che lo odia, punto, quando bisogna riconoscere ad Allegri certe cose lo si fa senza troppi problemi quando magari uno pensa che stia sbagliando nel fare o nel dire qualcosa si fa una critica senza troppi problemi senza eccedere magari negli insulti che quelli non ci stanno minimamente ma questa è banalmente una mia visione e ci mancherebbe altro però non lo capirei se posso essere sincero non lo capirei cioè non ho veramente da appigliarmi a nulla affinché io possa ritenere questa scelta a tutti gli effetti giusta perché vuoi o non vuoi è vero che da gennaio ad oggi abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto e sono anche pienamente consapevole che probabilmente da gennaio ad oggi Allegri più di così non poteva fare perché probabilmente una mezza stagione col resto anche così tanto logorante come quella che abbiamo vissuto noi probabilmente in panchina veramente ci poteva essere anche Guardiola che degli strascichi sicuramente te li saresti portati ciò non sta a significare che magari Allegri non abbia fatto degli errori anche da gennaio ad oggi e ci mancherebbe altro e penso di averli sempre sottolineati quando mi sentivo in dovere di farlo praticamente ad ogni partita quasi decisiva o ad ogni big match più o meno tra una roba e l'altra però noi dobbiamo veramente anche valutare quelle che sono state le due stagioni dell'Allegri bis e penso che per la prima volta nella storia di Allegri allenatore della Juventus includendo anche proprio il primo ciclo sto giro a grandi linee sia i risultatisti che i bel giochisti come no vengono chiamati su twitter le due fazioni che di solito si scannano nei confronti da Allegri e beh in un qualche modo si sono trovate d'accordo i risultatisti con l'Allegri bis hai vinto zero titoli in due anni e quindi c'è poco da dire i bel giochisti figuriamoci avevano da dire anche quando mediamente vincevi due trofei e mezzo a stagione quindi proprio figuriamoci quando per due anni vinci zero senza andarci neanche poi troppo più di tanto vicino sì per carità la scorsa stagione magari la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter anche no facendo un pochino di umma umma senza troppi giri di parole Supercoppa sempre contro l'Inter bene o male idem con patate da Scudetto e Champions League figuriamoci non ci sei stato neanche mai vagamente vicino quest'anno nonostante tutto avresti avuto modo di portarti a casa una Coppa Italia e un Europa League che voglio dire non è il massimo vedendo il perché sei arrivato a giocarti la Champions League però fino a prova contraria è un titolo che ti garantisce la Champions League da testa di serie e ti dà la possibilità di giocarti un altro titolo europeo riportando a Torino un titolo europeo che manca dal 15-18 ma purtroppo sappiamo bene o male tutti quanti comandate ritornarci fa solamente male al pensiero di rimembrare quei 180 minuti di Coppa Italia e di Europa League però di fatto questo è per quanto riguarda poi una mentalità un'idea che si è data la Juventus non c'è gioco non c'è valorizzazione di patrimonio umano non c'è soprattutto poi se magari cazzo valorizzi Rabiot ed è roba che ti va via parametro zero tra le altre cose lì toccherebbe dargliene atto però di fatto è di questo che si parla bene o male quando si parla dell'allegribis e non cambiare solamente per le condizioni economiche cavoli poi è ovvio non lo voglio prendere per certo nel momento in cui l'ha detto Di Marzio e lo prendi come no come la Bibbia che se l'ha detto Di Marzio sicuramente è vero cazzo fino a due giorni fa ancora c'era il campionato adesso questo famoso incontro Elkan Allegri tra le altre cose pare che non sia stato nemmeno fatto ieri sera Di Marzio se ne esce così e per l'amor di Dio ti aggrappi soprattutto al fatto appunto come detto prima che Di Marzio ultimamente sulla Juve non è che ne stia prendendo proprio tantissime ecco più che altro perché mi voglio appigliare a questa cosa come minimo va a beccare proprio questa e non c'è niente da dire ma anche cercando di vederla il più razionalmente possibile la cosa io non riesco veramente a trovare il minimo presupposto per continuare anche perché appunto il fattore economico non può essere un presupposto perché bene o male il tifoso deve pensare al campo non ai soldi che devi dare all'allenatore e quello che abbiamo visto sul campo con l'Allegri Bis insomma penso sia iconico il fatto che quando Di Marzio ha dato la notizia agli unici a festeggiare erano gli anti juventini penso sia no abbastanza chiara comunque tutto sommato come cosa fa ben capire come la notizia sia stata percepita dall'ambiente juventino e dallo stesso tempo dall'ambiente anti juventino o banalmente senza utilizzare questo termine da tutti coloro che non tifano juventus ecco e qui Gianlucone me l'ha fatta me l'ha fatta brutta onestamente non me l'aspettavo e soprattutto poi non me la meritavo una notizia di questo genere poi sicuramente c'è chi sarà anche contento per l'amor di dio io faccio fatica ad esserlo anche se effettivamente appunto mancano due mesi e mezzo è prima dell'inizio della nuova stagione quindi si fa fatica a pensare concretamente realmente che la scelta definitiva sia arrivata il 5 di giugno ieri sera o magari ieri anche nel pomeriggio prima di girare poi la notizia a tutti i vari giornalisti però cavoli io più che altro l'unica cosa che davvero mi sento di dire alla juventus nel dubbio è che tanto vale sempre pensateci bene rifletteteci bene è vero che anche confermarlo a suo modo è una scelta inspiegabile ma è comunque pur sempre una scelta però cacchio ragazzi è cacchiarola anche porca puttana se posso dirlo in tutta tranquillità detto questo nulla voi fatemi sapere la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve Ciao 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 Grazie a tutti.